Ciao a tutti ragazzi, finalmente bentornati su Football Manager 2023 per andare a proseguire la nostra avventura con la Juventus in questo episodio vedremo le partite contro Napoli, Milan e Inter l'episodio della muerte, quindi tre big in una sola puntata ovviamente questa presumo sia l'ultima parte di carriera per questo Football Manager 2023 perché poi il 6 novembre uscirà Football Manager 24 quindi vedremo un attimino, magari nel mese di ottobre cercherò di finire questa carriera per settembre e magari nel mese di ottobre pareremo un pochino anche di Football Manager 24 un po' di idee, vedremo un pochino però insomma questa ultima tragedia di stagione sarà l'ultima alla guida della Juventus comunque andiamo a vedere la formazione che c'è nel campo contro Napoli se vi ricordate nell'ultimo episodio che ormai risale un po' di tempo fa eravamo passati a questo 4-2-3-1 perché in questo periodo rendeva meglio quindi scenderemo in campo con Lafon, Mucchiele, Scalvini, Gvardiol, Doig, Oiberg, Minas, Gips White, Soposlay, Vitor Roque e Blauvic ora andiamo a vedere la formazione del Napoli Palletti schiera, Meretti, Lorenzo, Ocoli, Kimminjai, Parisi, Gornadouat, Anghissa, Bissouma, Mekennic, Vraschelia e Daka posizione per noi, Soposlay, direttamente in porta, palla alta Mucchiele, Sincuna, ma Parisi lo anticipa Bissouma ora, palla lunga nella parte lasciata libera da Mucchiele Mucchiele per Daka, Daka pali poco fuori, che rischio dati su tiri in porta, bene o male simili però guardate l'XG e il possesso palla nettamente a favore del Napoli idem i passaggi completati e ragazzi, mani sui fianchi serve più possesso e veniamo un pochino in tattiche perché Gips White meh, veramente male male e metto dentro Samarzic e per ora andiamo così rimessa Napoli, Parisi per Daka Daka, bravo Samarzic ma palla ancora in fuori del Napoli Parisi va sul fondo dietro per Anghissà tiro della domenica palo esterno io qua prima del cambio o meglio prima della punizione vado un attimino a cambiare perché Soboslai mi sta morendo e metto, e metto, e metto Moleiro dove sta? Moleiro e poi al posto di Vlaovic che sta facendo anche lui male male metto Rafamir sapete che vi dico? tolgo Junior e esibito a Rocky Junior e dare questo Rocky Junior e metto dentro Open Da in quella posizione come già è stato provato in precedenza comunque punizione per noi Soboslai in mezzo Scalvini palla fuori prima ancora di una punizione e andiamo in tattiche e tolgo anche Doig ultima situazione della partita perché sta veramente anche lui cascando in campo siamo al 72esimo Cop Miners tira in porta tira in porta palla fuori e il primo dei big match si chiude con uno 0 a 0 dove noi abbiamo tirato molto di più anche in porta però un IG più basso quindi vuol dire che il Napoli è tirato di meno ma è stato più pericoloso bah partita che fondamentalmente il pareggio è meritato trovo dudente però che non abbiate vinto e quindi ora ci aspetta insomma il prossimo big match intanto è importante vincere questa partita perché ricordavo questa cosa se il Napoli avesse vinto la partita in recupero sarebbe andato addirittura a più 5 quindi era molto importante vincere questa e niente ragazzi ora dobbiamo affrontare Milan e Inter minchia dici poco intanto sorpresone dall'ultimo giorno di mercato perché Casa Dei ha ricevuto un'offerta a Liverpool il mio cliente è incredibilmente interessato io ho fatto un'offerta voglio crescere come calciatore non ho intenzione di lasciarti andare temo di non poter aspettare poi non possiamo perderti temo che non l'accetterò arriverà un'offerta no al mio progetto di stipendio sono volessi ma non sono volessi come ci sia una cosa vabbè ciao Casa Dei ciao quindi ti vado a rifiutare l'offerta del Liverpool carne secchi si è infatti avanzata e aspetta perché è vero ma avevo carne secchi in uscita allora in uscita carne secchi eh sì eh sì 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 è vero un po' di robe mi sono scordate allora rifiutiamo carne secchia ben gonge rifiutiamo allora ok e per il resto tutta l'amministrazione tanto ripeto tiriamo questa stagione questo finale perché poi mi concentrerò su FM24 e su il preambolo su FM24 intanto anche no no eh no eh carne secchi no carne secchi ha ottenuto un permesso di lavoro e quindi diciamogli addio vai a Manchester caro ovviamente per la partita contro Milan valevole per la Coppa Italia scenderemo in campo un pochino le riserve quindi Audero Devinter Soleig Guardiol Baccher Endur Fagioli Samrasic Molero Openda e Mir ovviamente poi faremo magari entrate anche Casadei insomma vediamo un pochino vedremo anche se tornare al vecchio modulo voglio vedere un pochino come si adattano i giocatori a questa eh a questo modulo che per ora mi sembra un po' più fair e poi abbiamo come assente Dragugin infatti vedete Guardiol e non il rumeno semplicemente perché Dragugin ha avuto un attacco di Gastrointerite ora vediamo però la formazione dei diavoli Consesano Schiera Mignan Salisic Kaluru Pavlovic Hernandez Dialò Tonali Pobega Sottil De Ketelare e Leao Fagioli per Samrasic Samrasic si accentra ma viene fregato da Sottil Tonali recupera palla De Ketelare per Pobega scambia bene con Tonali palla per Sottil bello scambio con Leao bello bello ragazzi il Milan ci ha confezionato e ci ha impallinato con un gol splendido riprendiamo subito noi però De Vinter in possesso palla per Samrasic uh dribbling su Leao su Hernandez Samrasic però per Mir e Mir spara in bocca a Mignan angolo per noi Fagioli in mezzo respinge Stalinsic sole per Molero Molero ma si fa fregare la palla da Tonali Pavlovic per Mattraoré Diallo scusate Diallo nessuno lo bracca Bravo Hondur Fagiolino Fagioli per Guardiol ora Bacquer Bacquer tenta di affondare per Open Da dietro per Guardiol Guardiol per Molero Molero tenta il passaggio per Mir ma difesa meganista a la meglio palla lunga di Mignan ora palla sottile palla lunga per Rede Chetelare Scavetto 2-0 Milan Pobega dietro per Pavlovic Pavlovic per Teo Hernandez Bravo Samrasic ma che si fa fregare la palla ancora da Teo Hernandez prova il tiro palla da Daudero Mignan a rinvio lungo Guardiol di testa ma palla ancora per Diallo palla infilita per Pobega 3-0 mamma mia che disfatta ragazzi inguardabili io lancio le bottiglie sfiduciato sta cippa di lippa allora in tattiche torno al 4-3-1-2 allora chi che sta facendo pena allora Open Da lo voglio lasciare in campo perché così regge però metto al posto di Mir tolgo Mir e metto Vlaovic poi chi che sta facendo ancora molto pena frustrato metto dentro Scalvini e poi e poi Fagioli sta facendo anche lui male però giustamente voglio togliere Samarzic lo metto però al posto di Fagioli tolgo Fagioli e metto dentro Hoiberg il nostro regista titolare ovviamente in positiva e andiamo così ragazzi però la vedo veramente due a recuperare ripartiamo subito noi Audero lungo per Open Da Calula la meglio Di Allò ma non possiamo farci fregare così con i giochi di prima facciamo qualche cambio allora tolgo Open Da e metto dentro Vitor Roche Santo Cielo che pena poi tolgo Molero chi posso mettere metto Casadei no 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 non Gatti ecco qui e poi metto Casadei al posto o meglio Samarzic al posto di Casadei angolo per noi in duro in mezzo ma pare spinta difesa mianista Samarzic sul fondo dietro per Baccher c'è d'accordo che è la Coppa Italia però onestamente mi mi dà fastidio perdere così mi dà fastidio perché la prestazione è stata veramente indegna e mamma mia e qui penso di tornare al 4-3-1-2 perché abbiamo visto che nonostante le ultime buone prestazioni con il 4-2-3-1 madalmina per una sveglia non ti da mi importa e agito le braccia non siamo stai abbastanza bravi mamma mia che pena questa partita ripeto meno male che era in Coppa e quindi onestamente me ne frega sia anche no anche se comunque sempre sarebbe stato sempre un trofeo quindi sputaci sopra però come sempre noi in Coppa Italia siamo stati sempre discretamente sfortunati terzo e ultima partita dell'episodio quella contro l'Inter e torniamo a giocare per la Serie A scendono in campi titolari siamo tornati al 4-3-1-2 con Lafon Mucchiele Scalvini Guardiol Doig Fagioli Hoiberg Combine Soboslai dietro Vlaovic e Openda ora andiamo a vedere la formazione però dell'Inter Luiz Enrique schiera Onana Danfries Struik Bastoni Di Marco Brozovic Barella Ciananolu Müller Tussar e Martinez Doig la rimessa per Openda Openda s'accentra passa Mucchiele Scalvini ora Scalvini per Guardiol Guardiol larga per Doig ancora Guardiol Cobb Miners larga bene per Doig che però si blocca rimane fermo ancora scambia con Guardiol Oiberg in profondità bella per Vlaovic e la mette dentro non dovrebbe essere fuori gioco infatti tant'è neanche Alvar sono andati Openda tratta bene il pallone siamo in ripartenza bella per Vlaovic Vlaovic ti importa palo interno che sfiga tra l'altro Onana giocatore che è stato molto vicino a noi Di Marco per Trossar Cianolu scambia bene con Trossar uh che rischio rimessa per noi Mucchiele per Soboslai ancora Mucchiele Fagiolino per Soboslai Fagioli ancora Guardiol Doig tenta il pallonetto palla fuori a livello di statistiche stiamo messi bene però ragazzi dobbiamo segnare il secondo gol assolutamente perché qui si rischia Di Marco rimessa per Trossar dietro per Bastoni Brozovic Brozovic per Barella ma bravo Soboslai che anticipa bravo Penda uh Soboslai da dietro tira in porta azione in contropiede magistrale e Soboslai la mette dentro 2-0 finalmente facciamo qualche cambio va anche perché se no la gente qua mi si mi crolla e allora vado eh allora tolgo Vlaovic e metto dentro Mir tolgo Penda e metto dentro Vito Arroche tolgo Soboslai che anche lui è un po' meh e metto dentro Samarzic tolgo Cobminers e metto dentro Casa Dei ultimo cambietto siamo all'ottantunesimo allora chi tolgo Doig o Mucchiele Mucchiele va l'altra volta ho tolto Doig e questa volta tolgo Mucchiele Gosens per Gulixen Lautaro Martinez Gulixen ancora Doig anticipa bella diagonale dello scozzese Doig ancora per De Winter ora Scalvini Scalvini per Fagioli bella per Samarzic Casa Dei Vito Arroche bel passaggio per Mir in profondità Mir per Doig Fagioli Samarzic arriveremo al tiro De Winter va sul fondo rientra crossa in mezzo e Casa Dei niente pala fuori e alla fine sfanghiamo meritatamente ovviamente vittoria meritata braccia distese una bella vittoria e vediamo la classifica perché siamo a pari punti con Napoli perché anche se abbiamo una partita in meno prima loro erano più due però hanno pareggiato con lo Spezia sorprendentemente quindi ora se Napoli dovesse recuperare questa partita e dovesse vincere andrebbe al massimo a più 3 e non a più 5 inoltre il Milan due partite in meno potrebbe salire a 46 comunque se ebbe meno 9 da noi vabbè comunque è inutile fare congetture ora andiamo a vedere ok 5 milioni va bene perfetto elogio le prestazioni di Soposlai ormai siamo amici io e Dominic ok il post partita va bene andiamo a vedere il calendario quindi prossima partita sarà in parte ancora l'episodio della muerte perché avremo la partita contro Lazio in trasferta il Derby in trasferta e il Genoa e poi inizierà anche la Champions League quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cose pensate e una cosa io avevo pensato a fine carriera magari di dare il file quindi se magari qualcuno si voleva divertire con una stagione per Football Manager 23 a partire dal giugno luglio 2026 insomma fatemi sapere io non avrei assolutamente problemi a darvi il file comunque vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao